Buongiorno, anzi buonasera a tutti, non buongiorno, ciao a tutti, non facciamo direte da un po' quindi era tempo di recuperare ma mentre facciamo questa diretta, ciao a tutti quelli che ci guardano in differita come al solito, io mi tiro sulle maniche perché mentre all'inizio di questa diretta devo iniziare a fare della pasta fresca, della pasta fresca e ora vi spiego perché. Quindi nel frattempo mentre aspettiamo che qualcuno arrivi eccetera eccetera io mi prendo delle ciotoline, la forchetta mi serve anche e inizio a fare qualche misurazione, ciao Emanuela, Gianna, le perle perle dai così va bene così. Ciao Maria, Francesca, ciao Bi, Marisa, Angela, Francesca, l'altra Francesca, ciao a tutti, come sto? Bene, sono un po' stanca ma stanca da primavera. Ciao Paola, benvenuta, Paola dice ciao a tutti, io nel frattempo accendo la mia bilancia eh, per chi si fosse perso i primi secondi ho detto che oggi inizio questa live, mi fate un po' compagnia. Sì, oggi sono Floreale, mi fate compagnia perché ciao Ale, ok vi state salutando perfetto, perché faccio la pasta fresca però anziché usarne due, faccio la pasta all'uovo. Solo che, sto facendo le misurazioni eh, soltanto che diciamo che secondo la mia solita grammatura io utilizzo, parto da 300 grammi di farina, a sto giro parto da 200 invece. Perché ho soltanto tre uova. E voi mi direte, ma perché stai facendo la pasta all'uovo in questo momento? Perché dovete sapere che io oggi e domani per, no, devi essere 200, non 201, non 190, no. Ah, anche a voi vi piglia questa brutta malattia? E quando misurate deve essere assolutamente perfetto. Non so se riuscirò a leggere ovviamente i messaggi ragazzi. Oh B, un bacione speciale. Ciao Franci, ciao Barbara, benvenute. Fatemi pesare le uova. E poi arrivo. Ciao Roberta, benvenuta. Come va? Tutto bene. Va tutto bene, devo dire la verità. Non l'ho misurata. Sei una deficiente Alessandra. Se non fai la tara. Il cervello mi devo tarare. Ok. Scusate questo momento di silenzio, eh, giuro che arrivo. Ok. Ok, penso vada bene così. Allora, quindi. Grazie, Emanuela. Samuela, ciao. Agostina, ciao. Grazie. Sto silenzio e va tutto bene. Allora, quindi. Ho la mia farina. Eh, non è una ricetta questa. È solo per farvi vedere cosa sto facendo. Ho i miei 200 grammi di farina e le mie tre uova. Le ho pesate perché? Perché. Inizialmente. Quando mi sono messa qui a fare la pasta all'uovo. Per fare la sfoglia delle lasagne. Mi tolgo anche gli anelli però. Le prime tre uova di solito, sapete che la ricetta classica della pasta all'uovo sono sempre un uovo per ogni 100 grammi di farina. Il fatto è che ogni uovo ha un peso diverso. E io qui mi ritrovavo sempre a buttare le prime tre uova fatte, quindi i primi 300 grammi di farina con tre uova fatti perché veniva duro come un sasso, non si poteva. Quindi il mio cervello dopodiché si è acceso, dopo le prime due o tre volte addirittura che è successo, mi sono messa a pesarle. E quindi va bene così. Vabbè, io intanto mi sono fatta la fontana nella mia ciotola. E adesso inizio ad incorporare piano piano tutto quanto. E nel frattempo chiacchieriamo. Vi dicevo perché Alessandra stai facendo questa pasta all'uovo adesso in live anziché fartela per i fatti tuoi? Perché non avevo voglia di farla per i fatti miei. Volevo un pochino di virtuale compagnia. Ciao Marta! Va bene, va bene, Marta ci segue fin tanto che il bimbo di tre settimane dorme. Dovete sapere che io mercoledì, quindi oggi lunedì, mercoledì mattina, quindi oggi e domani per esercitarmi, quindi la farò sia oggi che domani. E quindi devo tenere una class, una lezione. Emanuele aspetta la pizza. Devo tenere una lezione sulla pasta fresca. Cioè mi hanno chiesto di fare una lezione su come si fa la pasta all'uovo in particolare. Perché abbiamo parlato con, durante i miei incontri del mercoledì, con delle signore in particolare, con un paio di americane. Mi hanno chiesto, abbiamo parlato di lasagne, eccetera, eccetera. Ma dove la compri? Io non la compro, la faccio. Perché qui non riesco a trovare niente che mi soddisfi. E quindi mi hanno detto, eh ma perché un giorno non ce le insegni? Però sapete quelle cose? Detto forse era novembre, sì perché era prima del Thanksgiving. Quindi era fatta a metà novembre, una cosa del genere. Quindi sai, sono quelle cose che dici, se vabbè, come quando incontri qualcuno e dici, dai però vediamoci per un caffè. Anche perché poi io, devo dire la verità, da qui sono passata le mani, adesso vado sul piano e lo lavoro sul piano. E quindi stavo dicendo, io poi agli incontri del mercoledì non vado sempre. Quindi, cioè veramente la mia presenza era così corrisicata. E praticamente io ci andavo una volta al mese. E siccome ogni volta le volontarie un pochino si alternano, le volontarie sono delle donne americane che fanno parte di questa organizzazione, insomma, di volontariato. E organizzano questi incontri per noi internazionali fondamentalmente, no? E mi serve più farina. Benissimo. Benissimissimo. Che ogni volta va un po' così, allo scatafascio. E sta di fatto che è l'ultima volta che ci sono tornata, prima di Pasqua, quindi la settimana prima del mio compleanno. Lei, appena mi ha visto, mi ha detto, ah, Alessandra, guarda che io non mi sono dimenticata della pasta, eh. Allora, ci insegni come si fa? E io ho detto, ah, ok. Oh, Nicoletta, no. Nicoletta mi dispiace moltissimo. Nicoletta è la nostra amica che ci segue sempre e poi dopo un pochino andava sempre giù, o su, non mi ricordo, comunque posso al piano di sotto, a giocare a carte con la sua mamma, 94enne, se non ricordo male. Lei ha appena scritto che purtroppo il primo di aprile è mancato improvvisamente e questa è una notizia dolorosissima, mi dispiace moltissimo, Nicoletta, ti abbraccio forte. Vi ricorderò sempre di questo bel momento, non so, sai il fatto che, di come mi scrivessi, dai, io adesso vi saluto, vado a giocare a giù da mamma, era una cosa molto bella. Mi dispiace molto, in questi momenti, insomma, dover continuare a parlare di cose frivole e poi ti senti un po' scema, però mi dispiace veramente tanto. E penso che, insomma, adesso ti arrivi un po', vedi, un po' di ondata d'affetto da parte di tutte, quanto meno. E, insomma, per tornare al nostro discorso, quindi mi ha detto, Alessandra, io non mi sono dimenticata, ce lo vuoi insegnare io? Ma sì, possiamo organizzare. E, a fine incontro, mi si è presentata davanti con l'agenda e mi ha detto, scegli un giorno, ciao Silvia, benvenuta, oh grazie, mi ha detto, scegli un giorno, perché abbiamo soltanto, che ne so, quattro lezioni, cinque lezioni, e alcune erano già occupate, avevano qualche buco libero e quindi io ho scelto il fantomatico 19 aprile, che appunto sarà dopo domani e così è. E quindi io farò, terrò questa lezione sulla pasta fresca. Ma siccome tutte le amiche che io, del mio gruppetto, che io invito a casa e che hanno assaggiato la mia cucina, le mie cose, eccetera, eccetera, mi chiedono da mesi la ricetta del tiramisù. Siccome io pensavo di voler, cioè, vorrei ancora, ma a questo punto non penso che lo farò, magari sarà una cosa che farò per il prossimo anno, avrei voluto organizzare una piccola cooking class a casa, con qualche ricetta, due o tre ricette, così, giusto, alcune cose che mi hanno chiesto, come il tiramisù, ho pensato, mentre la pasta fresca si riposa, possiamo fare il tiramisù. E così faremo, quindi ho chiesto di avere a disposizione, al posto di un'ora, perché questo incontro del mercoledì, di solito dalle 9 alle 10, ho chiesto una mezz'oretta in più, anche perché, insomma, comunque ci vuole il suo tempo, poi non si sa mai, magari una cosa la devi rifare, si può mai sapere. Mi hanno concesso, appunto, una mezz'ora in più, e quindi farò il tiramisù. Vedo che sta arrivando un'ondata di affetto per Nicoletta, sono molto contenta. E purtroppo, è... Ai ai ai, sono sempre notizie brutte, dolorose, qualsiasi età uno abbia. E' brutto, è brutto, lo so. Adesso io metterei a riposare sta palletta qua. La sento ancora un pochino appiccicosina. Penso dopo che prendo i bambini, dopo che prenderò i bambini, andrò a fare gli acquisti per questa lezione, perché, devo dire la verità, mi hanno chiesto, vuoi una mano per, anche, non so, economicamente, per comprare gli ingredienti, eccetera, eccetera. Ma siccome queste persone, che, ripeto, sono volontarie, si fanno un mazzo, perché comunque si fanno un mazzo, io pensavo avessero un sostegno economico da parte, non so, di qualche associazione, d'organizzazione per acquistare, perché loro ogni mercoledì, dovete sapere, portano il caffè per tutti, c'è sempre qualche snack o qualche dolcetto, organizzano, non so, settimana scorsa hanno organizzato un bingo e c'erano tutti i premi del bingo. Cioè, comunque, ci mettono di tasca loro anche delle, no, e quindi io, sinceramente, di chiedere una mano economicamente per una cosa, non me la sono sentita, probabilmente avrei dovuto, perché comunque non, non so, avrei potuto, diciamo così, però ho preferito evitare, quindi andrò a comprare, chiaramente, le uova e la farina. Il tiramisù, ovviamente, è la cosa che non è tanto per le uova e la farina, anche se qui le uova hanno raggiunto dei prezzi, vabbè, ma è per il tiramisù, sono cose che comunque costano, perché il mascarpone qui costa una cifra, il savoyar, costa tutto molto, e anche perché poi, tra l'altro, ho pensato, dato che facciamo la pasta, io nel frattempo la metto nella plastica apiccicosa, che è bellissima, questa me la voglio portare anche in Italia, deve riposare poi 30 minuti circa a temperatura ambiente, quindi noi nel frattempo ci facciamo due chiacchiere mentre lei sta qua e riposa. aspettate che io mi lavo le mani nel frattempo, ho pensato, dato che comunque io farò la pasta fresca e non è che ci mettiamo a mangiare, il tiramisù non è una cosa che tu prepari e puoi mangiare, assolutamente, per quanto mi riguarda, io ho delle regole molto strette riguardo il tiramisù e il tiramisù deve essere fatto il giorno prima, cioè il minimo che possa passare è una notte intera in frigorifero, almeno 10-12 ore, se fatto 24 ore prima, almeno, secondo me è più buono. ho pensato, che faccio, poi mi porto tutto via, magari, magari, non penso, mi porterò niente via, ho chiesto, sapete che cosa? ho chiesto se per caso hanno delle piccole cup, delle, non so, delle tipo ciotoline, tipo quelle useggetta, no? perché magari, anziché fare il vassoietto grande, possiamo fare, magari, delle piccole porzioni che la gente può poi portarsi a casa, tanto la gente, la maggior parte delle persone, immagino, tornino subito a casa e si mettono in frigorifero, così, che ne so, la sera o il giorno dopo se lo assaggiano, è una piccola porzione, però, perché chiaramente se mi faccio la teglia, io me la porto via, poi, sta teglia, però ho pensato, appunto, siccome sto facendo delle cose che non, come si dice, che non si possono consumare subito, intanto io mi siedo qua, dobbiamo sollevare però, magari ne porto uno già fatto, e quindi la spesa chiaramente raddoppia, non mi sono mai messa a fare i conti di quanto possa costare un, insomma, gli ingredienti di quanto possano, scusate, oggi è un po' un casino, però è una cosa improvvisata, però costano, cioè, secondo me, una teglia di tiramisù, una cosa così, che voi fareste per, boh, otto persone, magari anche in dieci ci mangiano, non lo so, facciamo per otto, secondo me, tra le cinque uova, il caffè non lo contiamo, perché vabbè, che comunque costa anche quello, ma le cose che costano di più sono le uova, il mascarpone e i savoiardi. Secondo me, sono circa, saranno 11-12 dollari più o meno di mascarpone. I savoiardi sono altri, tra i 4 e i 5 dollari, e poi ci metti il resto, ci metti 5 uova, ci metti, che comunque saranno almeno altri 2 dollari, perché le uova, ve l'ho detto, costano un sacco. Ah no, Sabrina, io sono, sul tiramisù sono con i paraocchi, per me la panna, la ricotta, non esistono, non esistono. Poi, per carità, probabilmente lo mangerei in tutti i modi, però se devo pensare di farlo io, è una delle cose per cui ho un pochino sui paraocchi. Quindi, so che esistono milioni di ricette, so che ci sono 4.000 modi di farli, ed è una cosa molto bella, però credo sia anche molto bello, come dire, appropriarsi di una ricetta e tenerla stretta al cuore. Quindi questo è quello che voglio condividere. Comunque, al di là di questa noia mortale, quindi la pasta sta riposando, ora dobbiamo contare, probabilmente, sappiate che tutti i vostri dispositivi, mutatemi un attimo, perché devo parlare con l'inominabile e chiederle di mettere un timer a 30 minuti. Quindi, a meno che voi vogliate, in tutte le vostre case dove c'è un timer a 30 minuti, mutatemi un attimo. Pronti? Muta. Alexa, metti un timer a 30 minuti. 30 minuti. 30 minuti. A partire da me. Fatto. Smutatemi. Ok. Immagino i dispositivi che si sono accesi nelle vostre case, va bene. Allora, fatemi recuperare qualche messaggio, se c'è, non lo so. Ok, c'è l'ondata di affetto per Nicoletta, ci mancherebbe altro. Anche Claudio lo fa il giorno prima. Ciao Federica, benvenuta. Ciao Mary. Marisa mangia. Grazie Mary, grazie mille. Uh, amica, ciao Laura. Il mio si è acceso. Lo vedi, Marisa? Io mi avevo avvisato. A Nicoletta dice, anche mio marito mescola mascarpone a panna montata. Sì, molti lo fanno. Penso soprattutto al sud, forse è una questione di conoscenze mie, non lo so. Questa è una cosa che sto dicendo così, con molta poca statistica. Però sì, c'è chi lo mischia alla panna montata, perché viene definito più leggero. Al palato, eh, no? Che sia ovviamente più leggero, ma comunque. Ciao Sara, benvenuta. Elena dice, il problema è capire poi come la cuoceranno quella pasta. Allora, io quindi gli insegnerò a fare la sfoglia, a tirarla a mano, tra l'altro, perché io non ho una macchina per la pasta qui, ma non l'ho mai avuta in vita mia, anche perché io in Italia compro la sfoglia fresca, ma quella pronta, non mi metto a farla. L'ho fatta nella mia vita qualche volta, ma è qua che mi sono messa a farla per necessità. Amica Laura, ti sei persa tutto? No, non ti sei persa niente, ti sei persa venti minuti in cui ho semplicemente, ho ancora tutta la, ho le unghie piene di pasta. Mi sono messa semplicemente a fare l'impasto per la sfoglia, perché, come tu sai, amica Laura, mercoledì mattina, quindi tra un giorno e mezzo ho la lezione e quindi mi sono ripromessa di, come dire, esercitarmi e quindi sto facendo questa cosa, insomma. E mi sto uccidendo, aspetta. Oddio. Mi è andata di traverso la saliva, perché? Perché sono deficiente e quindi esercizi di sfoglia, esattamente. Dicevamo Elena, come cuoceranno questa pasta? Non lo so, io darò le mie istruzioni, ma vedremo. Quindi tireremo la sfoglia per la lasagna e tireremo la sfoglia anche per fare una tagliatella, va? E poi magari posso insegnare la differenza tra tagliolino, tagliatella e pappardella, va? Giusto per la larghezza. Una cosa che devo fare, che mi metterò a fare oggi sicuramente, è cercare la terminologia, ragazzi. La terminologia, perché è un conto, se fossi io qua davanti a te a spiegartelo in italiano, un conto... Siccome ho la porta a vetri del giardino sul retro, leggermente aperta, dovete sapere che ora con la primavera ci sono animali ovunque, ci sono questi, penso siano petti rossi, ovunque. Mi sembrava che stesse entrando in casa. Vabbè. No, fettuccine al freddo, te prego. Ah, ecco, brava. Questa me la devo segnare, è una cosa che devo assolutamente dire. Niente spaghetti con meatballs, niente fettuccine al freddo, che altro? Cos'altro possiamo sfatare? E soprattutto che si chiamano fettuccine, linguine, spaghetti. Ah, io su queste cose, se mi danno voce, io la mia voce la uso, signori. Cioè, non è che io sia qui e poi mi devono andare alla lezione di pronuncia americana. Se io vado alla lezione di pronuncia americana, tu pronunci in italiano correttamente. Spaghetti al ketchup. Adesso vi dico, poi torno indietro con i... No, guarda, mica, non mi dire le fettuccine al freddo, mi viene da star male, da star male. Aia, che poi una pasta al burro, facciamo una pasta al burro, che è tutt'altra cosa. Però io ho già spiegato a qualcuno che me l'ha chiesto, che per noi una pasta in bianco è una roba che si dà generalmente. Per carità, piace, non piace, però in genere, di solito, che è una cosa che tu concepisci, per i malati, i bambini, e salvo poi quelle poche persone a cui piace, che proprio si godano la loro pasta in bianco. Però, cioè, realmente non è una cosa che vai e ti piglia al ristorante, mettiamola così. Spaghetti al ketchup. Dovete sapere che io, giovedì, giovedì scorso, Io il giovedì, lo sapete, vado a lezione d'inglese, mentre la mia amica fa da babysitter alla mia figlia, io faccio la sua il martedì, e bla bla bla. Giovedì era il turno, per la mia classe, di fare il nostro annuale field trip, quindi di farci la gita fuori porta. La gita fuori porta, con molte virgolette, non era una gita fuori porta, era semplicemente una giornata da passare in un museo di arte mista. C'era arte moderna, contemporanea, arte antica, come si dice? Vabbè. L'insegnante, che è una signora molto, molto vecchio stile, molto severa, molto rigida, ha dato come compito a tutti noi quello di cercare, qualora ci fosse, un artista del tuo paese, quindi ciascuno di voi, se c'è un artista del tuo paese, preparati una piccola presentazione su una, se c'è, che ne so, una scultura, un quadro, una fotografia, una, qualsiasi cosa. Indovinate chi è la fortunata sfortunata che si ritrova a tre quarti di museo con opere di provenienza italiana? Indovinate chi è stata l'unica ad essersi fatta un mazzo tanto studiando per ore il giorno prima, e vi giuro che l'ho fatto, con tanto di presentazione vecchio stile, quindi col quaderno, scrivere, fare, andare su i siti d'arte, Wikipedia, prima in italiano, poi in inglese, poi di nuovo in italiano e poi di nuovo in inglese, cercando, riminiscere, io. Chi è stata l'unica a presentare? Io. Perché? Perché la gente se ne è strafottuta, per carità. Ovviamente non tutti avevano artisti del proprio paese, pare. Io sapevo di essere un pochino così nell'occhio del ciclone, perché chiaramente, cioè, se parli di arte, non ti puoi passare, certamente non potevo dire, no, io non ho trovato niente, mi scocciava non partecipare, certo, se avessi saputo che fossi l'unica, non l'avrei fatto, onestamente. E quindi mi sono messa lì, ho visto che in questo museo avevano un, hanno un quadro di Caravaggio. Io di arte, calcolate che l'arte è qui e io sto lì fuori dall'inquadratura. Cioè, io di arte non ne capisco niente, d'accordo? Quindi il lavoro che ho fatto, che sarebbe risultato complicato in italiano, in inglese è stato molto più complicato. Mettici poi che quando parli davanti agli altri, quando parlo io davanti agli altri, c'è quel livello di emozione, cioè, non sono una... Io parlo tanto, sì, ma parlo davanti a un telefono, cioè, non parlo davanti alla gente. Quindi comunque c'è l'emozione, c'è il fatto di essere in quel caso, in un posto pubblico, quindi con altra gente. Ovviamente la sala più affollata era quella dove c'era Caravaggio, lo posso capire, perché c'erano dei quadri bellissimi, c'erano anche... Avete presente come... Io dico come nei film, ma perché io non sono una che frequenta... Però immagino che in tutti i musei sia così. Dove arrivano i ragazzi che studiano arte, disegno, sono lì con i loro block notes a fare gli sketch, gli schizzi dei quadri, eccetera, così. Si sono fermati e si sono messi ad ascoltarmi. Che probabilmente hanno sentito anche l'accento straniero, la pronuncia diversa rispetto a Caravaggio. Anche lì ho detto che si dice Caravaggio. E quindi ho fatto questa cosa molto. È stato bello, è stato... Mi sono sentita imbranata da morire, che ve lo dico a fare, però ho fatto anche questa cosa qua. E in tutto ciò devo ancora discutere con la mia insegnante, perché a quanto pare... Diciamo che lei ha una regola, a quanto ho capito... Quando io ho iniziato a fare queste lezioni non lo ignoravo completamente. devi partecipare a almeno metà delle lezioni per poter avere il certificato finale. Tenete conto che questo certificato è una cosa puramente... un attestato di partecipazione, cioè non è un certificato valido, no? Che tu dici, ok, lo uso nel mio curriculum, ho fatto un vero corso di studi, un inglese, un esame, no? È un attestato... Così, per la gloria tua personale, quindi non ha una validità. A quanto pare... Il giorno dopo il mio compleanno, io sono andata a scuola perché era giovedì e ho portato, avendo avuto due torte, perché le mie amiche mi hanno regalato una torta, quindi una, quella che avevo preso, io l'ho portata a scuola, tutti i biscotti li ho tutti impacchettati, singolarmente li ho regalati a tutti e quindi stavamo festeggiando, insomma, ero lì che tagliavo la torta per tutti, eccetera, eccetera. La mia insegnante arriva con questo papiro, questo registro, dove lei insegna tutte, perché noi ogni volta che andiamo a lezione firmiamo la presenza, arriva e fa questo conteggio e mi fa, guarda, per l'autunno sei a posto, ma per questo ultimo quadrimestre dovresti... ti mancano sei lezioni. Io mi sono fatta i calcoli, le lezioni che mancavano alla fine erano, mi pare, tre, sei e otto, non mi ricordo. Io l'ho guardata, come dire, mi stai prendendo... cioè, stai scherzando o sei seria? Dubitavo che scherzasse e mi ha detto, cerca di fare il meglio che puoi. Io ho fatto letteralmente così. L'ho guardata e l'ho detto, io già faccio il meglio che posso, nel senso che tu sai che io vengo il giovedì e non vengo il martedì, non perché io, come tante altre persone, scelgo di non venire perché la lezione non mi piace, perché noi sappiamo già gli argomenti che andrà a trattare perché lei nel weekend ci manda gli argomenti di cui parleremo, è molto rigida, ve l'ho detto, gli argomenti di cui parleremo in settimana e la gente che si sta un po' annoiando perché diciamo che la nostra è una classe avanzata e gli argomenti trattati sono un po' talvolta sono un po' noiosi si può dire ma io sono una entusiasta e io ci andrei anche se parlassimo di cemento e calcistruzzo probabilmente perché? Perché è una cosa che mi piace, mi piace, mi piace imparare, mi piace anche annoiarmi eventualmente ma con le altre persone, no? Quindi non è che tu sai che io non è che non venga perché non voglia venire ma io non vengo perché non posso, perché non posso perché ho mia figlia che è in al college non può entrare e quindi è per quello quindi che cacchio mi dici fai del tuo meglio cosa vuoi che venga con mia figlia che non posso cosa che non posso fare oppure non lo so vogliamo fare corsi di recupero mi vuoi negare il certificato cioè mi vuoi tagliare fuori da questa esperienza quando io sono una che partecipa che è parte del gruppo cioè non sono una che viene una volta ogni tanto che sta sempre nell'ombra che sono una parte attiva davvero e non è questo che conta nella partecipazione ad un corso in questo caso io penso di sì quindi io da quel momento ho fatto i conti se riesco ad andare tutte le volte avrò quattro presenze su sei quindi tu per due presenze in meno che poi sono i due giovedì che io ho mancato causa neve che io ho mancato che in cui il college ha chiuso causa neve altrimenti sarei stata perfetta tu mi vuoi negare di partecipare al giorno della consegna dei certificati io ci sono rimasta male devo dire la verità non l'ho presa bene infatti non volevo neanche partecipare a questa cosa della gita al museo poi ho cercato un po' di ripigliarmi le mie amiche lo stesso ci sono rimaste male non ci voglio manco credere e mi hanno detto comunque guarda che non conta niente ma io lo so che quel pezzo di carta non conta niente non lo voglio perché mi deve dare una qualifica io lo voglio perché me lo merito io lo voglio perché sono parte di questo gruppo e voglio festeggiare voglio fare sta cerimonia con il mio gruppo ma ma tanto qualcuno ha detto anche me ma tanto c'è l'anno prossimo a me l'anno prossimo non me ne frega niente l'anno prossimo se potrò parteciperò e vorrò il certificato dell'anno prossimo o no? cioè voi cosa ne pensate? quindi io ora ho aspettato un attimo di calmarmi e riparlerò con lei perché non non esiste signori miei sinceramente non esiste c'è veramente chi viene quando solo quando la lezione pare vagamente interessante e che cavolo ma scusate ma io non penso proprio vabbè comunque scusate vi ho tediato fatemi vedere se c'è qualcos'altro che io debba recuperare perdonatemi ma questa cosa vedi ora che ne sto parlando sono molto più calma ma mi ha fatto abbastanza girare le scale anche perché poi ve l'ha detto in un momento in cui io ero lì per festeggiare con voi quindi mi ha anche dato la notizia in un momento brutto cioè mi ha rovinato un momento di gioia e sapete quanto fossi insomma contenta per il mio compleanno come l'ho festeggiato eccetera oh ciao Sara ciao Luca e Chris Sara Luca e Chris ciao a tutti speriamo che Luca non ci stia disturbando facendo rumore come se Marte è andato dal piccoletto Francesca ha detto io faccio la pasta ma senza nonna papera sono persa non sono capace di tirarla a mano io non l'ho mai usata la nonna papera non l'ho mai avuta quindi non so mi piacerebbe averla quella elettrica certo quella elettrica però se no no scherzo anche quella a mano bella la cottura sarà un disastro dovrò insegnare a cuocere beh sì vedi mi devo trovare anche un po' la terminologia giusta per questo Silvia dice gli arancini così dice io doro gli arancini li hai mai cucinati arancini o arancine a seconda della siciliana provenienza della persona lo sappiamo che c'è questa guerra intestina tra maschi e femmine no non li ho mai fatti ma è una cosa che voglio imparare e penso di chiederla se mi farà questo favore alla mia amica siciliana che vive qui negli Stati Uniti se riesco mi piacerebbe molto imparare perché voglio che mi venga insegnato da una mano esperta siciliana se no chiaramente tutti possono aprire giallo zafferano e cercare no però poi ciao vale finalmente riesco a vederti in live sono arrivata in ritardo mi è differita mi recupero la prima parte perfetto grazie ragazzi ecco brava vale da noi arancina essendo palermitana ecco perché poi chiaramente non entro io io sono sarda non entro nel merito di queste discussioni l'arancina è palermitana femmina mentre dall'altro lato è maschio ok cos'altro volevo raccontarvi perché c'era qualcos'altro che volevo raccontarvi per chiudere il discorso di domani ah no dicevo che io devo mettermi a studiare anche per questa cosa perché perché io domani dovrò spiegare davanti avrò persone veramente da tutto il mondo perché all'incontro del mercoledì generalmente è un una una lezione è un incontro non è una lezione ecco perché non la chiamo lezione comunque è un'ora molto frequentata ciao raissa benvenuta è un'ora molto frequentata e vengono anche persone che magari non possono perché hanno i bambini piccoli ok venire alle lezioni al college perché perché nella struttura dove facciamo questo incontro il mercoledì si possono portare anche i bambini io stessa vado con Eleonora perché chiaramente è la mattina e lei la mattina è con me Sara dice se mi imparo a fare in Italia i rancini se no tra riso e ragù in America devi chiedere un prestito e vabbè però la mano no ma qua un po' per tu beh anche quando faccio la lasagna è piuttosto costosa signori ciao Teresa grazie mille no hai ragione ma forse la cosa più costosa finora è il tirano no anche la pizza la pizza perché tra il sugo la salsa e la mozzarella la mozzarella è la cosa più costosa più del in proporzione ma più o meno insomma si equivalgono con il con mascarpone vabbè comunque e dicevo no niente devo studiarmi una terminologia perché cioè io ti devo spiegare ti devo spiegare devo essere in grado un minimo di sì di cazzeggiare perché questo è il mio modo di fare però di spiegarti le cose come vanno fatte passo passo e va bene che tu le tu le vedi ok però magari mi faranno domande e peraltro io farò tutto in grammi perché la maggior parte di noi altri in giro per il mondo usiamo i grammi io mi trovo con i grammi quindi avrò bisogno ma lì chiederò aiuto live per la conversione in in once perché io non non intendo mettermi a fare conversioni adesso devo già convertire la lingua una ragazza americana mi ha detto perché lui ha detto mi raccomando stammi vicino dammi una mano con le parole la traduzione no traduzione perché lei non parla italiano però insomma con la terminologia e lei mi ha detto sì non ti preoccupare ti consiglio però di fare delle prove in casa quindi devo fare le prove di lo speaking di prova in casa mi tocca studiare anche per questo inoltre no sarà un'impresa guarda io ho già detto che cioè comunque anche farlo soltanto in italiano mi metterebbe in difficoltà perché poi lo sai quando tu fai le cose a casa per conto tuo non è mai la stessa cosa anche soltanto quando io filmo una videoricetta non esce mai come quando sei sola in casa figurati quando la devi fare davanti alle persone figurati quando queste persone parlano un'altra lingua tu devi parlare un'altra lingua certo è vero che se sbaglio qualcosa nessuno lo sa ecco non c'è quella pressione come se dovessi farlo davanti a un italiano che sa che cosa sto facendo no ed eventualmente anche cosa io stia sbagliando però siccome a me piace se devo presentarti una cosa mi piace presentartela nella miglior nel miglior modo insomma diciamo al meglio delle mie capacità è una cosa che poi si ripercuote sulla mia salute mentale no dai comunque vi farò sapere durante la prossima live vi racconterò se riusciamo magari la facciamo giovedì o mercoledì stessa no mercoledì ho quilting dopo quindi non si può fare vi racconterò poi un'altra cosa che sto studiando aspettate che lo prendo ve lo faccio vedere allora un'altra cosa che io sto studiando è questa questo è il manuale di scuola guida ci manca solo la scuola guida signori sì ahimè noi siamo in questo meraviglioso paese da una decina di mesi il che significa che il mese prossimo a me a mio marito oppure ci scade la patente internazionale abbiamo fatto e richiesto la patente internazionale a maggio dell'anno scorso a Roma e la durata ahimè perché poi quando chiede una patente internazionale dipende dalle convenzioni che gli stati hanno firmato e quindi può avere una validità annuale o triennale naturalmente noi rientravamo nella convenzione avente validità annuale quindi non solo l'abbiamo pagata un sacco di soldi mi pare 150 se non sbaglio ciascuna ma vale anche un anno soltanto tenete conto che altri paesi europei la danno o gratuitamente o al costo di 5 euro una cosa del genere questo così per info è un'altra cosa che mi ha fatto abbastanza storcere il naso per non dire ecco storcere il naso con dei giramenti vari ci sono delle disparità enormi enormi va bene grazie e quindi io adesso essendo io una persona guidante devo fare la patente devo fare l'esame della patente ora non figuraccia perché non è stata una figuraccia però diciamo che io e mio marito nella nostra italiana ingenuità siamo andati nel paesino qua vicino all'ufficio della motorizzazione per capirci ecco e siamo andati convinti di andarci ad iscrivere no tu come fai ti iscrivi o che tu vada la motorizzazione non lo so perché io non l'ho mai fatto cioè come si dice per la scuola guida insomma ecco per prendere proprio per prendere la patente io sono sempre andata sempre sono andata a scuola guida quindi cosa fai vai ti iscrivi dopodichè hai le lezioni da frequentare comunque tu sai che l'esame lo puoi dare per esempio un mese un giorno dopo l'iscrizione sparo magari non è più così però nella mia testa quello era dai lo scritto poi un mese un giorno dopo puoi fare la guida l'esame di guida nella nostra ripeto italiana ingenuità andiamo ad iscriverci alla motorizzazione e poi ci diranno no signori no tra l'altro ma dobbiamo prendere dobbiamo farci le foto sì guarda dobbiamo farci le foto mi sa che dobbiamo andare al fotografo poi vedremo poi l'oculista per la visia non lo so chiediamo vediamo no signori qui non funziona così non funziona affatto così la meraviglia della burocrazia statunitense che è una cosa che mi mancherà da morire da morire tu vai in questo ufficio della motorizzazione e fai tutto cioè tu entri lì per la prima volta e dai l'esame scritto l'esame orale fai la visita oculistica l'esame della vista non una visita oculistica l'esame della vista la fotografia sono attrezzati per fare tutto tutto in una saletta grande contro il mio salotto quindi voglio dire ti siedi e fai il test se lo passi vai a fare c'è la signora che ti porta a fare l'esame di guida e tu hai fatto tutto noi questa cosa non la sapevamo chiaramente quindi mio marito entra ci dicono uno per volta inizia lui presenta documenti cose varie dopodiché io sento io osservo quindi osservo le altre persone chi va e chi viene chi ha un appuntamento chi non ce l'ha quello che dicono le persone e a me mi pareva di capire però ho pensato ma magari è perché uno ha l'appuntamento ha preso che adesso ha l'appuntamento per fare gli esami e quindi viene a fare l'esame però poi c'era qualcosa che non mi tornava perché stavano facendo le stesse cose che mio marito stava facendo nel frattempo e ho detto vabbè ok a un certo punto lo fermo ma voi vedete che si è mossa l'immagine addirittura questo è il figlio della mia vicina che si è messo a saltare ed ha tremato i nostri grandi pavimenti in legno sotto la mochetta è normale che c'è la mochetta perché altrimenti secondo me saremmo già caduti no non sono gli spiriti è il figlio della mia vicina che sta mi ha fatto tremare mi ha tremato il sedere prima poi ha tremato la poltrona i piedi sotto i miei piedi il tavolino e il telefono è stata un'ondata tipo il terremoto io ogni volta penso il terremoto chiaramente per quello che ogni volta che sento tremare o magari sono i miei figli mi fermo un attimo perché ho ancora questo trauma comunque a un certo punto lui era in una comunque stava parlando con un'impiegata io stavo iniziando con un'altra e dalle cose che mi stava dicendo quest'altro impiegato ho detto no aspettate fermi tutti allora ho capito bene io allora fermo tutto l'ufficio e dico no aspettate un attimo ma non state dicendo di fare il test adesso sì certo però cioè fermati fermati guarda che stanno pensando cioè qua si fa subito l'esame sì certo che si fa subito e lui ah no beh allora hanno detto no scusatevi noi pensavamo di doverci venire a discrivere e quindi poi di venire non so il mese prossimo comunque dopo che abbiamo perché dobbiamo ancora studiare quindi così no 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 qua si fa tutto subito oh Alexa interrompi qualora anche la vostra si sia accesa e quindi niente così mi ha detto ma hai bisogno del manuale e io gli ho detto sì io in realtà ne ho preso un imprestito dalla mia insegnante che ora le restituirò così non è neanche questo magone ho pagato due dollari per il manuale e io con i miei evidenziatorini ci stiamo mettendo qui poi ho scaricato un paio di app con le le i quiz ah aspetta dalla fretta cioè dalla fretta dalla come dire dall'efficienza ecco non so ce l'ho già preso un appuntamento quindi in teoria noi a maggio abbiamo l'appuntamento per fare questa cosa ma dopo averlo dato il sistema burocratico americano vorrei così dare un piccolo accenno negativo sul fatto che dovete sapere che io dovrò fare la teoria e la pratica mio marito ha solo la teoria al che ho detto un altro fermi tutti erano tutte donne scusate ah per quale motivo solo perché lui appartiene alle forze armate date per scontato che lui guidi meglio di me perché non è vero io faccio la deficiente con tutti sempre e comunque ragazzi sono messi a ridere e hanno detto no sinceramente mi sarei arrabbiata anch'io ha detto se fossi stati in te mi sarei arrivata anch'io ma purtroppo è la è la legge e quindi ammetto che a fare anche la pratica e mio marito fa certo che quando siamo andati via fa certo che potevamo tentarcelo e tanto ascolta io queste cose mi è salita all'ansia da esame o da interrogazione scolastica avete presente quella sensazione da ma sei il Pasqua secondo te io non mi sono mai tentata un esame all'università senza aver studiato e spesso non lo davo manco dopo aver studiato dall'angoscia e secondo te io adesso vado a tentarmi un esame in un'altra lingua ma tu sei scema secondo te ma io non l'avrei mai fatto ma non l'ha fatto neanche lui tant'è che i primi quiz che ha provato a fare sul cellulare li ha falliti io finora sono stata promossa in tutti non ho ancora finito di leggere questo però sei ogni tanto quando sei stanca di leggere pidi il telefono e fai un paio di quiz però ho fatto sempre il massimo degli errori è l'inizio così no no Stefania mio marito è italianissimo è pugliese e se no non avrebbe dovuto no Dio in realtà in teoria quando cambi stato anche loro devono fare questi rinnovi c'è una procedura burocratica mi diceva Romina una ragazza che vive in Florida proprio ieri lei mi ha tranquillizzato sull'esame e mi ha detto guarda io l'ho fatto quattro volte perché cambiando stato non so era più veloce rifarla che non stare a fare probabilmente dei giri burocratici di conversione non lo so però mi ha detto stai tranquilla perché non è però stai quello stai tranquilla che magari ti dice anche a te stessa oltre che dirlo agli altri quando l'hai già fatto comunque ecco questa è la mia prossima avventura poi ho detto mercoledì dopo questa lezione di cucina vado a casa della mia insegnante è sempre quella rigida lì per il quilting perché ma ma cosa stanno facendo però questa cosa mi tranquillizza perché se anche i miei vicini tranquilli i kazaki fanno casino allora mi sento un po' più tranquilla con tutto il casino che fanno i miei quando sono a casa vabbè qua trema anche quando fai un passo eh signori quindi ciao monia buonasera Stefania dice comunque l'esame si ha scritto che pratica è facile ma negli Stati Uniti dici perché l'hai fatto negli Stati Uniti no non lo metto in dubbio però sai ci sono quelle particolarità quelle quelle minuzie che tu magari dai per scontato oppure ho pensato più che per la teoria dove lì obiettivamente studi un po' memorizzi magari cose particolari e vabbè molte domande sono da comune buonsenso quindi guidando da più di vent'anni è chiaro che tu sappia no alcune cose sono particolarità statunitensi per forza alcune misure anche eccetera e quelle sono cose da studiare però ho pensato alla pratica perché tu magari adesso sei abituato a guidare in un modo pensa a te che entri in macchina e ti metti alla guida dice la cosa più naturale del mondo non ci penso neanche non ci pensi neanche però adesso tu hai acquisito negli anni un modo di guidare che sicuramente non era quello che ti hanno insegnato perfettamente come te l'hanno insegnato a scuola guida prima di dare fino al giorno in cui hai dato l'esame della patente quindi io stavo pensando ma non è che magari io entro in macchina ci sono dato che qui non è che io faccia scuola guida o qualcuno che mi insegni ma non è che per caso c'è qualche dettaglio ecco che magari qua si usa a fare in un modo che è diverso da come faccio io addirittura diverso da come ci insegnano in Italia che appena lo fai zang ti bocciano questa era la mia domanda ma immagino che l'unico modo per scoprirlo sia dare l'esame dare l'esame si può dare quattro volte dopodiché e lo puoi dare non un mese un giorno vi ricordate che da noi è così deve passare un mese un giorno dal giorno in cui hai fallito qua deve passare una settimana o una settimana un giorno non mi ricordo ma mi pare una settimana l'ho letto anche non mi ricordo comunque meno e poi hai quattro tentativi le domande sono 25 devono essere hai quattro possibilità di errori quindi di risposte sbagliate quindi devi fare corretto 20 su 25 allora il costo se non mi sbaglio costa 20 dollari quindi è un costo cioè niente io non ti so rispondere Sara Sara chiede ma quindi non si fanno le guide con l'istruttore se già guidare vai a fare direttamente l'esame sì io secondo me io non lo so se qui esista un meccanismo di scuola guida come la intendiamo noi per cui boh anche perché nei film se ci pensi c'è sempre il ragazzino che impara a guidare con un adulto no fanno le prove devono arrivare un monte ore di guida diurna e notturna con un maggiore di 21 anni però ora che io abbia reminiscenza da film con la scuola guida mi pare di non averne non ti sorrispondere non ti sorrispondere Teresa dice scusa non ho capito al primo rilascio non avete dovuto fare l'esame il primo rilascio intendi dalla patente internazionale no perché la patente internazionale costa tanto ed è un foglio piegato con i tuoi dati la scadenza di questo foglio quindi non è niente non c'è manco la tua fotografia se non sbaglio no non penso io le fotografie le ho portate ma c'è nella mia non lo so perché non l'ho mai aperta non c'è niente è un pezzo di carta e chiaramente dato che te lo rilascio ero in Italia e tu hai la patente valida no non devi fare nessuna guida quindi tu arrivi qui come me io sono arrivata qua e mi sono messa a guidare quindi io guido da quando darò l'esame saranno 11 mesi che io guido per cui avrei potuto fare le cose peggiori di questo mondo ma nonostante ciò devo comunque dare l'esame e le regole sono regole che devi fare ciò ho annunziata benvenuta vediamo se ci sono se c'è qualche domanda che io sto grazie Paola grazie per fortuna che non fai niente tutto il giorno poi ti aveva detto un attimo poi ti dico sì no poi che altro quindi vi dicevo devo tornare alla lezione di quilting non perché io non penso di riuscire no mercoledì non posso a meno che domani io riesca qua vicino hanno aperto un nuovo negozio di stoffe dedicato principalmente al quilting siccome io voglio iniziare un nuovo progetto vorrei andare a comprarmi le stoffe mi piacerebbe averle prima di mercoledì ma non penso di farcela vorrei farne uno natalizio un runner esattamente come l'ho fatto con lo stesso pattern ma natalizio poi cambierò alla prossima avventura cambia sì Rosy costa circa 20 dollari da quel che ho capito costa circa 20 dollari non sono parlato ieri di costi ma mi pare perché ho letto dei fogli e quindi mi sa che sia un costo comunque un costo veramente molto basso quindi voglio fare un altro runner diciamo che per iniziare ho tutto nel senso che mi servono le stoffe per iniziare ho tutto quanto non mi serve neanche grande aiuto da un insegnante se non qualche veloce reminder e vorrei tra l'altro farci un video cioè voglio avere un video quindi montarlo dal primo all'ultimo giorno per poi ricordarmelo ricordarmi questa procedura e chissà magari può interessare a qualcuno avventurarsi in questa cosa per esempio la mia amica Laura me l'ha chiesto e quindi così però ci devo andare perché perché devo scegliere l'etichetta l'insegnante ti regala praticamente da degli scampoli di tessuto fa queste etichette con la stampa dove tu con una penna indelebile devi scrivere che ne so il tuo nome l'anno l'anno di produzione e poi ti insegna come appuntarlo come cucirlo nel retro quindi il mio il mio quilt deve ancora avere la e poi c'è la foto ricordo che lei ti fa perché l'ha sempre fatta tutte le sue allieve e così questo è queste sono le mie cose poi scorso weekend non abbiamo fatto niente di particolare perché c'era un tempaccio tempaccio tremendo siamo passati da venerdì che era estate ma estate un caldo allucinante venerdì sera siamo andati a cena una delle nostre amiche famiglie brasiliane ci ha invitato a cena in teoria dovevamo essere noi e la famiglia lituana li avevo invitati anch'io a casa per una pizza night i nostri figli maschi sono in classe insieme sono migliori amici però il bimbo lituano si è ammalato e quindi loro non sono potuti venire e si è tramutato tutto in una serata un po' latina e quindi siamo andati noi l'altra famiglia brasiliana quindi due famiglie brasiliane noi e la famiglia spagnola e sia noi che una delle famiglie brasiliane quelli che ci hanno invitato rimarremo qui per il prossimo anno e quindi insomma è arrivato anche il momento di legare un pochino di più ecco e loro le ragazze erano ovviamente c'erano anche il mio compleanno quindi sono persone che io ho sempre invitato però insomma è il momento di legare un po' di più ed è stato molto bello molto bello una bella serata eravamo fuori e all'improvviso è arrivato il tempo orale quindi il tempo è cambiato da così a così sabato e domenica era non vi dico inverno perché inverno è esagerato però le temperature sono scese da 27 gradi a 7 almeno sono scese almeno di 20 gradi di notte c'era molto più freddo non abbiamo fatto niente di particolare se non sabato mio marito stava studiando io ho portato i bambini alla alla biblioteca ogni volta devo fare switch tra library biblioteca libreria negozio di libri e in biblioteca dovevamo restituire alcune cose ne hanno scelte altre e la sala per i bimbi era tutta per noi quindi ci sono messi a leggere mi hanno fatto lo spettacolo di marionette perché c'è anche il teatrino delle marionette quindi mi hanno fatto questo spettacolo di marionette mi hanno chiesto poi di andare al bowling quindi ho chiamato mio marito gli ho detto senti Matti va se mi ha detto ma si dai passami a prendere l'abbiamo preso siamo andati al bowling e abbiamo passato un paio d'ore ma neanche forse un'oretta e mezza il tempo di mangiare una untuosissima pizza era una roba guardate me la ricordavo più buona a suo giro aveva un dito d'olio di semi sopra una roba allucinante e poi noi prendiamo a mio marito piace quella con il salame però di solito se la dobbiamo soprattutto mangiare insieme prendiamo una cheese pizza quindi una diciamo margherita ma i formaggi sono sempre misti non è un solo tipo di formaggio per quello lo dicevo comunque prendiamo la cheese pizza e solo che molti posti sopra mettono questa polverina di spezie di aglio di c'era una quantità d'aglio spaventosa spaventosa ed era molto salata perché in questo polverino evidentemente c'è anche tanto sale quindi peccato per quello comunque ci siamo divertiti abbiamo giocato bowling ci siamo divertiti papapà e questo è stato il nostro weekend anche perché poi ai che fastidio quando arrivano le email tipo spam di truffe mamma mia terribile non vi urtano il sistema nervoso mamma mia e domenica passata in casa a fare allora avevo due settimane di bucato pulito messo su perché tra il mio compleanno è il weekend precedente poi siamo andati in giro anche per Pasqua quindi dopo il mio compleanno siamo andati in un ranch bellissimo avete visto il video e quindi abbiamo fatto cose perché era bel tempo eccetera eccetera quindi ho completamente trascurato infatti se quando hai il bucato pulito nella cesta e poi peschi la roba da lì abbiamo passato una buona settimana intera così quindi mi sono dedicata a milioni di lavatrici più oddio ne avrò fatte almeno 5 o 6 ma come sempre più le tre ceste di bucato che vegetavano su da tempo ho fatto il cambio degli armadi ai bambini visto che c'ero via l'inverno dentro primavera estate così anche da capire che cosa serva infatti ho già riempito un po' il carrello di Ecenem perché ci sono cose che servono cosa che l'anno prossimo non farò infatti voglio prendere qualcosa di un po' grandino in modo che li stia anche il prossimo anno che stia ad entrambi il prossimo anno perché il prossimo anno non comprerò il prossimo anno di questi tempi io starò impacchettando già l'inverno vendendo già tutto quello che non mi potrò portare fatemi pensare a decorazioni e cose varie perché io il prossimo anno avrò un mese di tempo per andar via da qua e quindi certamente non mi metterò a comprare guardaroba nuovi a nessuno anzi sarà il momento di fare decluttering poi c'è tempo di arrivare in Italia pazienza magari i bambini vivranno con tre pantaloncini tre magliette quando arrivi in Italia fai un ordine e compri tutto quello che serve tanto voglio dire loro le taglie le cambiano ogni anno aspettate che ok sto cercando di recuperare qualcosa vale i programmi per questo weekend mi pare di no ah no 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 perché mio marito parte giovedì parte con la scuola fanno un viaggio molto bello vanno a Gettysburg a Washington fanno un un viaggio seguendo alcune delle principali battaglie della guerra civile se non sbaglio perché devono fare hanno fatto degli studi appositi devono fare delle devono seguire delle conferenze devono fare mi presenta questo viaggio come una cosa molto stressante ma non ci crede nessuno ragazzi il fatto è che vanno in mi pare tocchino Virginia Maryland DC Washington e c'è qualcos'altro che mi sto dimenticando qualche altro perché non mi ricordo non mi ricordo il fatto è che hanno questa settimana di da giovedì a giovedì successivo mi pare le famiglie possono raggiungerli ovviamente a spese spese personali eccetera eccetera volendo possono andare anche durante tutta la durata di questa settimana oppure molti vanno direttamente per il fine settimana successivo cioè li raggiungono o il giovedì o il venerdì non mi ricordo e poi passano il fine settimana insieme c'è chi addirittura da Washington prende l'aereo e va a New York o col treno addirittura e va a New York e poi tornano tutti insieme noi purtroppo non lo facciamo per una questione meramente economica abbiamo prenotato il viaggio estivo avremo modo di parlarne anche perché io ancora devo capire bene non per carità forse lo dico per tutti i viaggi che dobbiamo fare non lo so ma questo mi spaventa più di altri mi spaventa più degli altri che abbiamo fatto Natale e Primavera mi spaventa il caldo non mi spaventavano le tormenti di neve il freddo eccetera eccetera mi spaventa molto di più il caldo perché andiamo ad est e viaggiamo in macchina e ci saranno delle visite in posti dove l'ombra non è neanche di questo universo quindi la trovo una scelta è abbastanza obbligata perché comunque andiamo lontano arriviamo fino in California ti serve tempo ti serve tempo il viaggio in aereo è economicamente inaffrontabile non si può in nessun modo affrontare quindi è da fare in macchina e l'unica pausa lunga che si abbia sono quasi due settimane a giugno l'unica pausa che abbia mio marito perché poi rientro da questo viaggio lui ricomincerà il corso del secondo anno subito per cui se pensi di andare così lontano andata e ritorno con gli stop perché non è che guidi 24 ore al giorno almeno noi non siamo una famiglia che guida più di un tot di ore al giorno e quindi devi fare degli stop gli stop cerchi di scegliere i più interessanti possibili il problema è che nel mezzo ci sono cose tipo i canyon cose tipo riserve nativi americane tutti i posti dove diciamo che tu immaginati un canyon e ti immagini non so rocce rosse sole un caldo fotonico non esattamente sotto le fresche frasche ecco quindi comunque parleremo del viaggio estivo e ci sarà modo di farlo anche perché poi bisogna affrontarlo e quindi ci tocca così la mia tv mi dà come pubblicità come consiglio da guardare un film che si chiama Tornado ma sai che c'è anche no anche no evito allora prima di salutarvi aspettate aspettate che voglio recuperare daniela ciao ale tutto bene si abbastanza grazie ma sai che oggi per caso mi sono imbattuta in un tuo video di otto anni fa che piegavi graziosamente asciugamani ma per caso fosse ma penso fosse il tuo avatar il video in cui io piegavo gli asciugamani cara daniela era un video smr perché avevo pubblicato che tra l'altro è sempre piaciuto molto quel video avevo pubblicato qualche video smr in questo canale ma eoni fa cioè ero geologiche fa e era fatto esclusivamente a fini rilassanti per dire neanche all'epoca io piegavo gli asciugamani in quel modo ecco quindi era fatto apposta Francesca dice se penso che io ho speso 1000 euro per patentare i figli ecco c'è una bella differenza anche perché insomma la scuola guida si può fare anche in Italia a prezzi decisamente ridotti ma cioè le guide bisogna farle comunque penso siano obbligatorie non lo so da me era un vai c'è la scuola guida si occupano loro di te ma menomale Teresa chiede pensi che soffrirai al rientro in Italia in una casa più piccola gli spazi ampi hanno solo aspetti positivi io abito in 45 metri quadri ora io ti dico allora io io ho fatto ho abitato in appartamenti da diverse metrature il più piccolo forse era 70 75 eravamo in due poi è arrivato Tommaso ma abbiamo lasciato quell'appartamento che Tommaso aveva un anno e mezzo e siamo andati a Roma in io vengo da un appartamento ho sempre vissuto in appartamento vengo però da un appartamento di mi pare 130 metri quadri quindi grandino dove ognuno aveva la sua stanza comunque un appartamento poi sono passata a questo di 75 la differenza la senti molto però siete in due che te frega va benissimo poi arriva un neonato va benissimo lo stesso quando i bambini crescono o sono più di uno chiaramente senti la necessità di avere un pochino più di spazio se puoi ovviamente ragazzi ci mancherebbe però io ho sempre avuto la fortuna di avere la casa al mare di famiglia e quindi la villetta col giardino ci dava tre mesi all'anno più alle vacanze di Natale ok questa aria questa sensazione di la percepisci la differenza rispetto all'appartamento però ti godevi i pro e i contro di ogni modo di vivere perché io ho sempre vissuto al centro centro città quindi scendi e hai tutto alla casa al mare invece ti serviva la macchina io da ragazzina cioè se si andava la casa al mare lì ero confinata appunto e basta fino a che ovviamente non ho preso la patente quindi mi potevo muovere da sola ma comunque era così a Roma abbiamo iniziato con 90 mi pare fossero 90 metri quadri però c'era la cosa positiva di avere quindi due camere una zona giorno che purtroppo abbiamo dovuto ci sono i vecchi home tour se vi va di vederli se cliccate home tour nel mio motore di ricerca trovate tutto tutte le case in cui da Roma in poi chiaramente perché prima no non c'era quella della Sardegna non c'era però c'era quello home tour a causa di come noi traslochi li facciamo con i nostri mobili dovevamo adattare la zona giorno e la zona notte ai mobili che avevamo e quindi purtroppo la zona giorno era diventata la camera di Tommaso che era grande con una bella zona giochi insomma mentre la cameretta era diventata al soggiorno ed era una striscia rettangolare ma purtroppo non ci stava diversamente il divano e il tavolo non ci stavano e poi siamo passati invece diciamo l'attuale appartamento a Roma che sta lì e ci aspetta è un po' più grande mi pare sia 110 metri quadri e è disposto un po' meglio e abbiamo un po' più di spazio io ti dico cioè qua si sta meglio ecco al di là del fatto di io qui sono in campagna ok quindi è normale che ci siano i pro e i contro di stare di non stare in città a Roma prima stavo in periferia vabbè ora sto in centro è bellissimo quindi io non ho l'ascensore non ho l'aria condizionata questi sono due contro enormi soprattutto l'aria condizionata ma anche non avere l'ascensore però sono cose molto personali ecco sicuramente è una casa indipendente così su due piani con la cantina giù con il garage con il giardino davanti e dietro poi il giardino sono veramente due pezzettini di terra e non è un giardino però cioè che contro li vuoi trovare qua io sinceramente contro qui non gliene trovo cosa potrei pensare la mancanza di privacy se mi viene da pensare all'italiana una casa indipendente all'italiana ti dico la mancanza di privacy perché mi piacerebbe avere delle recinzioni un po' più alte magari degli albi o delle siepi o davanti o dietro per avere dietro probabilmente per avere della privacy quello sì ecco se c'è una cosa che devo pensare neanche la mochetta ti dico più come contro però sinceramente avere questi spazi così è boh per me è impagabile impagabile quindi sicuramente sentiremo la differenza ma sai non tanto per riabituarti all'appartamento perché secondo me è una cosa cioè comunque forse è una cosa per noi che siamo abituati a muoverci non lo so però abbiamo uno spirito di adattamento molto forte sviluppato e peraltro lì torneremo non so se ci staremo in quella casa se potremo ancora starci però nell'immediato torneremo lì anche solo per qualche settimana se dovremo traslocare questo non lo sapremo lo sapremo solo una volta tornati in Italia però sei sempre tornando a casa con le tue cose quindi abituarti ad una casa sarà questione di pochi giorni quindi soffrire non penso di soffrire magari mancherà magari sì Claudia dice anche io guardo vecchi video di Ale ho visto ultimamente il compleanno di Tommaso tema me contro te ma sai che da poco l'ho riguardato anche io con lui questo video non vedo l'ora di far fare le guide a mio figlio mancano ancora sei anni già non vedo l'ora ma nel senso tu di insegnarglielo tu o di fargliele fare perché è una cosa molto diversa Claudia dice che bello torni in Italia no no noi Sara mega raduno a Roma o a Modena quando torni io vengo da Milano no assolutamente assolutamente lo faremo a Roma sicuramente allora voglio dire sicuramente qualora io rimanga a Roma perché questo è una una cosa doverosa io devo mettere le mani avanti per forza qualora io rimanga a Roma sicuramente lo faremo ora che sono un po' più sciolta e che so che eventualmente qualcuno si presenterà allora sì quando torno in Italia non lo sapevo sì annunziata noi torneremo a se se le cose vanno come stanno andando quest'anno noi torneremo in Italia a fine maggio gli ultimi gli ultimi giorni di maggio del 2024 e Paola dice a Modena tra totellini e tiramisù ah che meraviglia che meraviglia davanti all'accademia da poco ho visto immagini per da poco forse per il giuramento non mi ricordo degli allievi no da poco e me ne è passato tempo comunque meraviglioso meraviglioso poi la primavera l'autunno a Modena sono una roba vabbè lo sapete io sono innamorata di Roma di Roma di tutte e due Maria dice a pensare al caldo mi viene da piangere lo so come me ecco una cosa che mi mancherà se mi dici guarda scegli una cosa che ti mancherà di qui una una soltanto la temperatura costante in casa poter avere sempre il giusto caldo sempre il giusto fresco guardate è una roba che soprattutto tornando a Roma in quell'appartamento dove noi non possiamo mettere l'era condizionata per questioni di di come si dice di preservazione di beni culturali ha vietato di rovinare la facciata con gli split piuttosto morite ma veramente vabbè comunque Emanuela fermi tutti Emanuela dice sabato mi sono sposata mi si sta scusate scusa Emanuela mi stava appiattendo una coscia sabato mi sono sposata alla veneranda età di 49 anni dopo 10 anni di convivenza domani partiamo in macchina da Roma per il Belgio dove mio marito lavora e poi gireremo l'Europa vabbè Emanuela ma auguri ma è una cosa meravigliosa ma che bellezza oh eh aggiornaci poi cioè la prossima live dopo il viaggio di notte ci mancherebbe altro però poi facci sapere cioè se noi ci dimentichiamo di chiedere tu facci sapere Francesca dice le guide sono obbligatorie mi pare 8 diurne 2 notturne se non ricordo male io avevo pagato un pacchetto completo da 10 ok ciao Sara benvenuta si salta a metà di ferita e ti vedo in live evviva oh c'è anche Elisa che è appena arrivata no adesso vi saluto perché è veramente tardi non so manco che ore siano ma sono già le 2.10 no raga io devo stendere con la pasta altro che Marisa dice io con la moquette morirei visto la mia energia alla polvere lo immagino quindi è sicuro che tornerete a Roma no 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 come ho detto non è affatto sicuro non è affatto sicuro e noi non lo sapremo finché non torneremo di sicuro c'è soltanto che noi prenderemo tutte le nostre magari tutte le nostre cose prenderemo quello che possiamo prendere da qui e torneremo in quella casa penso che non sapremo nulla prima una volta tornati in quella casa nel giro di qualche settimana ci diranno di che morte dobbiamo morire quindi ci diranno innanzitutto quale sarà la mansione che dovrà svolgere il mio marito che lavoro dovrà fare dove lo dovrà svolgere a seconda di dove lo debba svolgere se noi possiamo ancora avere se noi possiamo ancora stare in quell'appartamento perché è un appartamento legato al suo lavoro quindi noi paghiamo l'affitto di quell'appartamento quello è un appartamento di proprietà dello Stato quindi viene definito alloggio di servizio questa è una cosa che non ho mai detto ed era legato a questa sua mansione quella che ha svolto negli ultimi tre anni ormai l'anno è passato comunque nei tre anni precedenti a questo e quindi noi stavamo lì per quel motivo non si sa se ora lui quel lavoro l'ha smesso chiaramente è qua dovrà tornare lì e a quel punto gli diranno dove lo stanno collocando peraltro magari gli diranno guarda tu continua a lavorare qui puoi tenere l'alloggio per un altro anno dopodiché diciamo che noi da qui in avanti una volta che torneremo in Italia nei dieci anni da lì in avanti avremmo probabilmente diversi trasferimenti davanti molto probabilmente anche potrebbero anche essere annuali quindi inizierà probabilmente la fase più delicata della nostra vita familiare soprattutto con i bambini saranno dieci anni però sono molto delicati ma sono gli anni in cui i traslochi sono più cioè comunque ecco il cambio del suo lavoro è repentino un anno qua due anni al massimo là un altro anno qua un altro anno qua e quindi lì la famiglia poi dovrà prendere una decisione noi ti aspettiamo lì dove ti mandano c'è un posto in cui tu possa tornare magari il fine settimana più velocemente oppure ti seguiamo tutti questa è una cosa che si vede anno per anno perché chiaramente dipende io penso a meno che noi abbiamo qualche problema di salute ma dipenda dai dai bambini insomma e quindi può essere pure che lui rimanga a Roma magari a fare qualcos'altro da un'altra parte o che rimanga sempre lì dove stia lavorando ma gli levino l'alloggio di servizio e quindi noi dovremmo trovarci un altro un altro alloggio non di servizio ma andare a pagare affitto completo chiaramente pagando un affitto completo non andremmo a vivere in centro dove viviamo adesso ma probabilmente fuori Roma che non è esattamente la stessa cosa e quindi le cose saranno molto più complicate ma lo vedremo cioè così sarà non sapendo nulla non voglio neanche pensarci perché è inutile che io mi agiti per cose che non sono ancora avvenute Samuela dice ovviamente raduno anche in Sardegna sarebbe molto bello ok ecco di sicuro Anna esatto da qua dobbiamo andare via questa è l'unica certezza di cui possiamo parlare Marisa chiedeva prima o poi tuo marito avrà la stabilità lavorativa in una sola città no no se la carriera va avanti come sta andando no a meno che a meno che ci si fermi a Roma ma sentite io le vedo le persone che sono i suoi superiori la maggior parte cambiano continuamente capita che molti spesso tornino a Roma è un continuo andare e tornare andare e tornare andare e tornare poi ogni volta che cambia il capo di stato maggiore dell'esercito può cambiare le regole può cambiare le cose quindi magari tu ti ritrovi in mezzo a una una rivoluzione capita spesso e volentieri a noi non volentieri ma spesso ti trovi in mezzo a una rivoluzione poi arriva un altro cambia tutto e quindi tutti è l'allegra vita delle forze armate vabbè Emanuele Emanuele la dice anche per mio marito scusate non riesco a parlare anche per mio marito è così infatti io rimango a Roma soprattutto quando è nato eh se è nato certo soprattutto quando è andato in Romano e Mirati ora in Belgio è più semplice e te credo eh sì e quindi vedremo va bene è stata una chiacchierata molto interessante era da tanto che non facevamo live è stato come sempre molto bello io adesso scappo a tirare quella sfoglia perché si sarà seccata no non penso anche perché era parecchio umido ora vediamo e basta mi metto qualcosa ho ricominciato a guardare ah qualcuno di voi è come me appassionato di vabbè serie tv cose varie avete visto che su prime è uscito com'è in italiano vabbè Mrs. Maisel non so esattamente forse la fantastica signora Maisel può essere io l'ho sempre guardato in inglese è meraviglioso è uscita la quarta o quinta quarta mi pare e ultima stagione se non l'avete mai visto guardatelo perché è stupendo io ero lì detto adesso me lo guardo tutto me lo guardo tutto finisce il terzo episodio niente hanno messo i primi almeno qui hanno fatto così ma penso sia una cosa mondiale hanno messo i primi tre episodi venerdì scorso e poi ne uscirà uno alla settimana allora se vi piace la parlata veloce mi pare che i produttori siano sia Amy Sherman Palladino quella di una mamma per amica quindi sicuramente vi deve piacere una parlata veloce velocissima vi devono piacere secondo me è impossibile che non piacciano i look anni 50-60 New York è una roba guarda bellissimo bellissimo quindi se non l'avete mai visto altamente consigliato anche perché è una cosa molto leggera ogni tanto serve e va bene un bacione a tutti grazie mille Emanuela ancora auguri tantissimo Nicoletta un abbraccio triplo e basta ci vediamo alla prossima live se riusciamo la facciamo giovedì tenete d'occhio Instagram anche su YouTube lo scrivo e basta bacione grande a presto buonanotte ciao ciao